Sì, sono visto un modello a sinistro, ora vediamo che c'è da qua, acqua che bolla dentro Vedendo, però questo c'è questo, è ma ottimo, ma un cagolo, grazie a dire, veramente la fessura delle proprie è questa qua, non c'era qua, e tu vai ancora un po' a sinistra se puoi, non c'è, no, questa non c'era, sì, qua è, infatti adesso vedo anch'io, eh, eh, guarda che c'è lì No, no, non c'era, è il conto dell'altro giorno Sì, adesso devo girare un subcontentato lì Grazie a tutti.